zia teresa vabbè che io sono qui stamattina però salutiamo gli amici che adesso guarderanno questo video questa nuova video ricetta che poi faccio le pupette e le lenzane pupette muligane tagliate a tocchetti a tocchetti e faccio vedere le pupette a me sembra sempre con il pane di scuola e il momento della frittura e poi facciamo il freddo e poi facciamo il freddo e poi facciamo il freddo dovevi dice mi se poco olio poco e quindi ora la frittura e la frittura e quindi c'è un'altra frittura troppo troppo frittura eccole qua eccole qua ma le gagne pronte si vuole 6 uglioni ora sai il cacciato qua dentro il cacciato? il cacciato è 6 uglioni facciamo raffreddare perché la si vuole raffreddare si vuole raffreddare ah si c'è il tempo di mettere il pane sopra devo fare ecco qua anche un po' di propoletta prima l'indemolignano il sale non gliel'hai messo giusto? il pepe immancabile e molto buono formaggio rigorosamente pecorino 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 alla grattugia si grattugia direttamente perché? all'andica tutta l'andica rag a cascata a cascata eccola qua questo muovo abbastanza buono non si lega ma si come fai a vedere se basta un uovo o magari c'è un uovo? si potremmo fare il popetto capito cosa fa con le mulignano ecco anche gli amici fateci sapere si che hanno la friggietta che cosa? eh con le melanzane che si può fare con le melanzane vediamo un po' quanti modi ancora si può fare una melanzane? caccioccolato l'hanno fatta? caccioccolato ecco fa a me la bruppetta che si chiama ruscatta eh e ti frallè la ruscatta a me mi piace la riuscatta ti sembra così di là quelle di là no? 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 questo non è bello? no... questa qua invece questo si può si fa proprio scuro 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 eh? e insomma diventa bella croccante... e quando la metto qua... esatto, eh! ma la faccio fresca bella si bella non so a voi amici come mi piacciono? le pulpette di mulignano sono fatte, ma proviamo i gusti, sono favoriti e proviamo prima e poi direi che è favorito perché sono favorito? si vuole un po' scotta favorito, favorito? avevo consolato si, vieni che ti mangiare i pulpetti di mulignano